Questa sera abbiamo il piacere di avere qui con noi il sindaco di Bellano, Antonio Rusconi. Buonasera sindaco. Buonasera a tutti. Parliamo della stagione turistica a Bellano che è iniziata benissimo, soprattutto grazie agli straordinari risultati dell'Orrido. Una presenza così non si era mai vista. Esattamente, il nostro gioiello, l'Orrido, ci sta dando davvero grandissime soddisfazioni. Basta pensare che nei primi quattro mesi di quest'anno abbiamo triplicato gli ingressi rispetto a qualsiasi anno dal 2008 in avanti, dell'epoca recente dell'Orrido. Solo nel mese di aprile 7200 visitatori, quindi il triplo del mese di aprile dell'anno scorso, ma soprattutto anche più di qualsiasi altro mese, prendiamo i numeri di agosto, dei vari mesi di agosto, anche quando nel 2009 c'erano i dinosauri che avevano fatto parlare di sé. Quindi l'Orrido sta dando davvero grandi soddisfazioni. Merito, ci siamo posti queste domande anche l'altra sera in un incontro pubblico che abbiamo promosso in paese, dove abbiamo presentato i numeri, sicuramente proprio del brand, dell'attrattiva dell'Orrido. Ci abbiamo creduto fin dall'inizio, appena insediati, abbiamo subito fatto dei lavori per la messa in sicurezza, anche grazie a un contributo, regionale di 30.000 euro e abbiamo fatto anche diversi lavori di machilage, di decoro dell'Orrido che era un po' lasciato andare. Quindi abbiamo messo delle luci dove mancavano, sistemato fiori, panche, ripitturato sia la condotta che le ringhiere, ripulito con idropulitrice tutti i sassi, gli architravi, gli elementi in pietra presenti. Abbiamo creato un nuovo logo Orrido di Bellano. Poi dobbiamo dire un forte grazie a Carlo Borlinghi, il nostro fotografo, perché ha fatto delle bellissime foto, anche in notturna, che nelle scorse settimane ha invaso i social network con decine di migliaia di visualizzazioni. L'Orrido, soprattutto nei mesi scorsi, siamo riusciti anche grazie all'interesse di Sara Vitali, un'altra bellanese figlia di Giancarlo Vitali e sorella di Velasco Vitali, che ci sta aiutando molto nella promozione. Siamo riusciti a ottenere pagine sulla Repubblica, su Vanity Fair, di Bellano si è parlato anche sulla CNN, grazie a Carlo Borlinghi, in Radio 102.5. Siamo adesso sulla rivista del Touring, abbiamo chiesto anche a Lipera sulla propria rivista, che comunque va in 200.000 copie in tutta la regione. Insomma, stiamo facendo un grosso lavoro di comunicazione, di marketing, per migliorare sempre più i numeri dell'Orrido e devo dire che sono i primi risultati, anche grazie alla cogestione con la Proloco, quindi volontari che ringraziamo, gestiscono l'Orrido, rispetto al passato quando era affidato a un privato, permette anche al Comune di investire il 100% degli incassi sulla struttura, struttura che ha molto bisogno di un intervento di restauro e riqualificazione. Noi l'abbiamo chiamato Orrido 2.0 perché vuole essere proprio un punto di svolta. L'Orrido ha bisogno di essere allungato nel suo percorso. Nei mesi scorsi abbiamo appunto anche condiviso delle immagini di posti anche più nascosti, abbiamo creato anche l'hashtag Discovering Bellano, proprio partendo da queste immagini e crediamo che l'allungamento del percorso gioverà al successo dell'Orido. In più abbiamo due gioielli da ristrutturare che sono la Cade di Aul che è proprio uno dei simboli dell'Orido posta all'ingresso che deve essere ristrutturata anche perché ha evidenti un urgente bisogno di ciò e anche i vicini giardini dell'Orla che sono di proprietà della Curia ma che ha dato disponibilità già anche il parroco a cederli. Anche lì abbiamo un'altra torretta, la Cafe House dell'Orla che deve essere recuperata. Quindi i progetti sono ambiziosi ma vediamo che i numeri sostengono con forza questi nostri intenti, quindi li porteremo avanti. Nel frattempo vi aspettate immagino nuovi record nei prossimi mesi con la bella stagione. Questo sì, nel senso che anche dai primi dati degli esercizi commerciali ci dicono che soprattutto nel weekend sia questi con i ponti primaverili ma anche nei mesi di gennaio e febbraio mai hanno visto così tante persone a Bellano. Quindi anche i prossimi eventi che ci aspettano sicuramente ci porteranno grandi soddisfazioni. Esatto e parliamo proprio di questo perché Bellano ovviamente non è solo Orrido, ci sono tante iniziative in programma. La prossima è proprio questo weekend. Esatto, uno degli intenti della nostra amministrazione che se ne si è data l'anno scorso è proprio quello di dare un concreto rilancio in chiave turistica di Bellano e sicuramente il creare eventi, soprattutto eventi che facciano conoscere Bellano sia una delle nostre priorità. Il prossimo evento Piccoli Editori in Fiera ne è un esempio. Fra l'altro abbiamo avuto proprio la collaborazione anche di Teleunica nella realizzazione di un speciale di 11 minuti che racconta Bellano. È uno dei, diciamo, il primo appuntamento che aspetta tutti gli appassionati di lettura. In modo particolare il prossimo evento su cui puntiamo è il 21 di maggio, quando ci sarà la tappa lombarda della penisola del tesoro del Touring Club italiano che ha scelto Bellano dopo averci visitato lo scorso autunno come unica tappa regionale di questo importante evento. Calcolate che sulla rivista del Touring che viene distribuita in 350.000 copie in tutta Italia c'è uno speciale su Bellano, così come a tutti i soci touring della regione Lombardia e proprio in questi giorni è arrivata una lettera di invito a Bellano quella domenica. Ci aspettiamo, insomma, una grande partecipazione e il paese è tutto compatto e qui devo ringraziare davvero tutti, dalle associazioni, i commercianti, agli artisti che tutti insieme abbiamo predisposto un programma davvero importante. Sicuramente la parte del Leone la faranno le visite guidate che il Touring farà durante tutta la domenica ma oltre a queste sono previste ad esempio tre mostre una su Danilo Vitali, nostro incisore di rame una su Giancarlo Vitali che grazie appunto alla sua disponibilità metteremo in mostra dei disegni e una sulla Pesavegia con le foto appunto di Carlo Borlinghi. Ci staranno un percorso sul sentiero del viandante che è un altro dei nostri punti di forza e poi un percorso enogastronomico e tante altre cose, quindi sarà una domenica importante. Il 7 giugno, sempre parlando di eventi, ci sarà il raduno interprovinciale l'Ecco Monza dei gruppi di cammino a Bellano, sono previste anche lì dalle 500 alle 700 persone che invaderanno camminando in un percorso individuato proprio dalla TS Brianza e dai walking leader dei gruppi di cammino e poi tanti altri che veramente dal prossimo weekend fino a metà settembre, ogni weekend sono previsti eventi, alcuni appunto davvero importanti faccio solo dei nomi come il Bellano Jazz che ritorna dopo anni di assenza un 4 giorni a giugno immersi nel Jazz, avremo un weekend dedicato alla salute sempre a giugno avremo il ritorno degli agoni in contrada, della beneficenza col Teleton Cup la festa patronale dove stiamo predisponendo quasi una settimana di eventi per il 27-28 di luglio in quei giorni, ad agosto ci sarà ancora l'appuntamento con la lirica, i giardini rock per i giovani abbiamo ogni mese una ventina di eventi vi aspettano Bellano e anche durante il corso della settimana e molti di questi eventi li abbiamo visti proprio in chiave di incoming turistico il touring, i gruppi di cammino e altri ancora, anche poi con i piccoli editori in fiera ci sarà la possibilità di fare una visita guidata del bordo alla scoperta dei nostri tesori perché crediamo che questa sia la chiave di volta perché il passaparola ai nostri giorni è proprio il primo strumento di promozione turistica Ecco, proprio questo volevo chiederle, si parla tanto di turismo nel nostro territorio c'è chi propone la creazione di agenzie, chi altro secondo lei qual è la strategia giusta e secondo lei questo territorio finalmente inizia a capire quanto sia cruciale questo settore per il suo futuro? Io credo che sia una, se non l'unica strada per il futuro soprattutto parlo del territorio del lago e quindi dei paesi come Bellano e paesi limitrofi noi soprattutto come amministrazione crediamo al di là delle agenzie, al di là dei tecnici delle consulenze che sono anche importanti, sia proprio una questione di mentalità tutti dobbiamo porci nella mentalità che il turismo è una risorsa da crescere, da coltivare un turismo sano fatto partendo dalle proprie peculiarità noi abbiamo peculiarità in ambito artistico, storico e culturale ambientale, pensiamo appunto al brand Lago di Como che però è quasi più un preminenza della parte comasca ma c'è tutto un mondo da scoprire anche nel nostro territorio quindi ambientale stavo dicendo, gastronomico insomma abbiamo tante peculiarità che sono tutte da riscoprire il primo passo è la mentalità ci vuole la creatività e l'inventività nel senso che comunque per fare le cose bisogna, ci vuole tanto tempo ma ci vuole anche le idee sicuramente mettendosi insieme ci saranno altre possibilità ecco insomma, questo per esempio giusto ieri c'è stata una riunione coordinata dalla provincia di Lecco, i comuni di Lecco con gli altri comuni del Lago, appunto della Sponda Lecchese dove si è parlato proprio di questo fare turismo cosa vuol dire? noi crediamo che soprattutto a Bellano i primi segnali forti li abbiamo dati dall'incentivazione dell'Infopoint abbiamo partecipato al bando regionale per farlo diventare un Infopoint dalla regione Lombardia quindi con l'acquisto del totem personale che sappia almeno quattro lingue un orario di apertura ampi puntiamo molto sui social network perché dicevo prima il passaparola è la prima forma di turismo forse anche spicciola ma molto economica ma che rende molto e quindi credo che la direzione da intraprendere sia proprio questa grazie al sindaco di Bellano Antonio Rusconi grazie a voi grazie a voi grazie a voi